Buonasera, sono Laura Antissi, vi volevo parlare di come importare modelli in OpenSim. Si possono importare modelli in OpenSim in formato .dai chiamato con l'ADA per arricchire il nostro ambiente. I modelli sono oggetti che possono anche essere creati da noi con applicazioni dedicate come ad esempio Blender e poi esportati in formato .dai con l'ADA, oppure possono essere scaricati da siti che li rendono disponibili in formato .dai. Talvolta l'importazione dà problemi con le texture che sono troppo pesanti o non si caricano. In questo caso una volta importato il modello bisognerà poi andare ad aggiungere manualmente le texture cliccando sull'oggetto in modifica. Vediamo ora come importare un modello in OpenSim. Dobbiamo andare nel menu a costruisci, in carica, modello, scelgo un modello che ho scaricato che si chiama PianoDai, punto dai, apri e ora vediamo lo nomino. Piano, è un pianoforte. Vado subito a caricare le opzioni, includi texture, vedete che mi ha caricato la texture del piano. Ritorno in livello di dettaglio, in media usa livello di dettaglio indicato in precedenza, in basso lo stesso usa livello di dettaglio indicato in precedenza, in bassissimo usa livello di dettaglio indicato in precedenza. Devo cliccare ora su genera normali, dopodiché clicco su a calcolare pesi e tariffe, quindi attendo che mi renda disponibile il caricamento. Ecco, ora è disponibile carica, quindi mi sta caricando il mio piano, che ora sarà disponibile in inventario. Vado quindi nel mio inventario, trovo l'oggetto piano, lo trascino nel mio ambiente e come vedete ha mantenuto in questo caso le texture. Lo stesso oggetto comunque lo posso modificare, andando in modifica e magari ingrandendolo, facendo poi i quadratini. Ecco tutto.